Questo van ricarica la tua auto dove vuoi quando vuoi Praticamente che c***o hanno fatto? Hanno piato una ape, ci hanno messo sopra un gruppo elettroceno a gasolio Capito? Così tu che sei un c***o che ti sei comprato la macchina elettrica Perché sei un c***o Te si scarica e chiami quest'altro c***o A farti ricaricare la macchina qualcosa a gasolio Hai capito? Green però, tutto verde Ma vattene a fa' c***o va! Genio, genio assoluto Sì ma del male Le fake news Abbasso le fake news Voi pensate che questo video è diventato virale Ha fatto milioni di visualizzazioni E la cosa veramente che mi dà fastidio È che essendo tanto pop Molta gente ci crede pure E quello che mi dà ancora più fastidio Che questo video che voi state guardando Ne farà molte molte meno Ma chi se ne frega Io voglio informare e combattere le fake news E poi mi spiace per gli amici di EGAP Che sono stati anche penalizzati Da questo video che è diventato virale Perché loro danno un servizio molto utile Tolgono l'ansia da ricarica Perché vengono a domicilio a caricare il vostro veicolo elettrico O plug-in con questo mezzo Ma non solo Poi faccio vedere anche le novità di quell'altro mezzo Perché tra l'altro io con EGAP Ho fatto una collaborazione Vi ho raccontato come funziona il servizio E lui è completamente elettrico No, non c'è gasolio Ma poi soprattutto Non è neanche un ape E oltre ad avere un motore elettrico Trazione elettrica Anche all'interno Non un generatore diesel Ma e ve lo faccio vedere meglio Una batteria Con un'infrastruttura di ricarica su ruote Lei arriva Vi carica la macchina E poi torna in deposito A ricaricare le batterie Ma questa è la novità Ciao, ben rivisti C'eravamo rivisti C'eravamo visti a Bologna In occasione della presentazione del servizio La novità è che questi nuovi furgoni Montano un nuovo tipo di batteria Che sta crescendo nel tempo Questa è la versione da 72 kilowattora Questo è il connettore per caricare questa batteria Che si scarica ovviamente quando carica le vetture Ma soprattutto c'è la possibilità di cambiare Sottolineare velocemente Quindi lot swap Della batteria Quindi voi Quando caricate una vettura Siete sotto a un determinato livello di carica Tornate in azienda Via una Via l'altra E siete pronti per ripartire La cosa interessante Che il cambio di tecnologia Ha permesso anche di aumentare La potenza di ricarica dei veicoli Si arriva su veicoli che accettano La ricarica a 800 volt Tipo le Porsche O la EV6 di Kia Anche a 100 kilowatt di ricarica Ho visto questo dato proprio in un test Al Porsche experience center di Franciacorta Bravi ragazzi Abbasso le fake news Però volevo far vedere un attimino anche Qua come era questo veicolo Tra l'altro adesso in questo momento State ricaricando una ID3 Qui c'è tutto il pannello di controllo Che permette di controllare Quindi anche settare Quindi potete anche programmare la ricarica Programmarla Sì Energia Tempo Riusciamo a vedere la potenza di ricarica Che in questo caso è di 20 kilowatt Perché la macchina è quasi carica Siamo al 97% Possiamo settare nella parte della schermata In controllore le varie potenze Aumentare e diminuire In base alla richiesta della macchina Tra l'altro un controller Mica male C'è della tecnologia E ovviamente anche questo furgone È elettrico Anche perché voi se non sbaglio Da statuto non potete avere mezzi termici Esatto Che bello E questa era anche la scusa Per vedere come gira i video Questo Pixel 7a Ciao e abbasso le fake news Fate girare questo Fate diventare virali i contenuti che informano Non le micchiate Ciao